Randazzo, Castiglione, Lingua Glossa, insomma quella zona lì. Vigneti più vecchi, grappoli più piccoli, le zone più povere del vigneto, fa 18 mesi di legno, parte grande e parte tonnodo a 500 litri, e viene imbottigliato praticamente l'anno successivo a tutti gli altri. Tutti gli altri vengono imbottigliati a giugno, a seguito della vendemmia precedente, e questo invece viene imbottigliato quando lui ha ormai 20 metri. Questa è la parte più... Il vigneto è almeno importantissimo, non so chi vuole fare, questo è veramente... Grazie. No, anche perché in merito di tutte le altre fichette di Federico, ma quella è mia? Quindi l'hai premiato. No, ma sono... No, vedo? Cioè, mi serve già una bottiglia che esprime il vino. Questo è il vino che chiude il scranchirsi, e tra mezza giornata diventa interessantissimo. Senti che comincia ad avere i profumi che aveva 2008, però lo vedi proprio aprirsi, no? E te la aggiungo un goccio, così. L'efficienza di richiamare quello che è... Questo è il sciatoletto. Sì. Questo è il sciatoletto, come lo dà? Uno sciatoletto, penso al nostro piccolo lido, così. E di ripare questo... No, non mi trovo il dono nel democchio, ma anche questo se lo mette il naso del macchino, poi vabbè, può essere una potenza. Io ho il vecchio selo ormai, io sono un po' al siglo, e quel bianco. Per questo? Sì, il vecchio selo ne ha, perché in realtà sarebbe il vecchio selo. No, 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 ma... Io ho impazzito letteralmente. Purtroppo, sai, non me ne andava, nemmeno una bottiglia. No, no. Era possibile trovarla. Però veramente... Una ragazza disperata, una magna ola, mi ha fatto un letterone... Sai chi è? No. Io lo so. Ma non abbiamo risposto. Allora... No, perché ho risposto io? Di Forlì, eh? Esatto. Gli ho risposto che gli porterò un 2009 a mano. Allora...